Benvenuti al nostro TG Sport, cari amici di Telemolise. Cominciamo con il calcio di Lega Pro. Il presidente del Campobasso, Giulio Di Palma, sta lavorando sul fronte societario per farsi trovare pronto alle scadenze imminenti. Di Palma sta lavorando alla cremente per tessere delle buone relazioni portatrici di risorse per il Campobasso Calcio. Proprio oggi sono in agenda degli incontri con alcune agenzie per rieperire delle disponibilità imprenditoriali a accostarsi alla causa Rosso Blu. Per ora non si parla di rapporti con forze finanziarie del posto. In mattinata il presidente ha ricevuto anche una telefonata direttamente dall'assessorato allo sport del comune di Campobasso nella quale gli è stato comunicato che è pronto il documento atto a certificare la disponibilità dell'impianto di Selvapiana da allegare all'iscrizione. Lo stesso Di Palma afferma altresì di aver reperito nei suoi giorni di permanenza a Campobasso altri crediti a favore della società Rosso Blu e che erano stati relegati nell'oblio. Certamente il presidente si farà vivo con i debitori per riscuotere il dovuto. Se effettivamente il credito del Campobasso sarà esigibile. Lo stesso presidente Vicentino ha trascorso il pomeriggio di ieri a redigere un testo che la Lega richiede per l'ottenimento della fideiussione quest'anno schizzata da 3 a 400 mila euro. La Lega Pro chiede delle diciture specifiche da annettere al documento che comprova l'avvenuto sblocco della fideiussione. Altra grana presentatasi agli occhi di Di Palma. I conti correnti del Campobasso risultano essere per così dire sofferenti per cui sarebbe difficile trovare un istituto di credito pronto a elargire una garanzia così ingente come quella voluta dalla Lega Pro. Di Palma si è allertato immediatamente per trovare una soluzione idonea a 11 giorni dal termine ultimo per la presentazione della scadenza. L'unico possibile scioglimento del problema sarebbe offrire un saldo dei debiti attuali del Campobasso nei confronti di alcuni istituti bancari. Soltanto in questo modo le banche stesse potrebbero ammorbidirsi nei confronti della società Rosso Blu. Nel frattempo ieri si è tenuta una riunione in Lega a Firenze nella quale si è discusso del prossimo regolamento del campionato 2013-2014. Ancora non ufficiale la possibilità che venga introdotta la regola della media età da mantenere sui 14 giocatori, vale a dire sugli 11 più i 3 sostituti. Certamente sarebbe un'innovazione complessa da assorbire ma quasi rinunciabile per le società, viste le risorse connesse a tale iniziativa. La novità in questione potrebbe essere resa ufficiale con l'assemblea del prossimo 16 luglio. In tal caso il Campobasso potrebbe dire addio a tutti i segni, un recetto minadeo. Non ci sarebbero speranze per i vari di vicino in Maiella, pure ritenuti confermabili non troppo tempo fa. Recchi sta risolvendo le comproprietà. Curcio diviso tra Campobasso e Crotone tornerà ai Calabresi. L'altro giocatore diviso è Cattenari in comproprietà con il Pescara che per ora ancora non lo riscalta. Il DS sta lavorando su vari fronti. Proprio oggi ha trattato due centrocampisti, un classe 91 e un classe 89. Uno dei due ha fatto un'ottima seconda divisione quest'anno, l'altro invece ha giocato nel campionato belga. Recchi avrebbe attenzionato anche il trequartista 92 del Catanzaro, D'Agostino. Viva la pista che porta a Samb, giocatore di colore di proprietà del Chievo, girato quest'anno alla Cremonese. Come si può notare i movimenti di mercato in Casa Rosso Blu non esitano, ma forse è meglio dare un'occhiata soprattutto alle dinamiche societarie che a brevissimo dovranno trovare riscontro in alcune improrogabili scadenze richieste dai piani alti. Marco Meo, presidente delle ACLI di Campobasso, è disponibile a prolungare la collaborazione con la società maggiore del Campobasso. Il summit tra Di Palma e Meo è stato rinviato perché quest'ultimo si trova all'estero, ai nostri microfoni, proprio il numero uno delle ACLI. Marco Meo, presidente delle ACLI di Campobasso, finita la scuola, parte anche l'attività estiva della sua scuola calcio. Sì, continuiamo ancora per un mesetto, i ragazzi verranno al campo, così si divertiranno, non saranno più presi dall'attività agonistica, quindi li teniamo ancora un altro mese e poi anche loro si godranno le meritate vacanze. Un altro mese per chiudere dopo una stagione intensa per la sua squadra. Sì, certamente, è stata una stagione intensissima, impegnati sia nei campionati regionali che in quelli nazionali con il Campobasso. Devo dire che è stata specialmente quella dei campionati nazionali un'esperienza veramente importante per tutti i ragazzi e per noi della società. Questione Campobasso, proprio Giulio Di Palma aveva detto che in Agenda aveva un incontro con lei. Certo, settimana prossima ci incontreremo, adesso io non so, lui dovrebbe arrivare penso lunedì, così mi aveva detto. Io purtroppo sono all'estero, però diciamo appena rientro ci incontreremo e parleremo. Comunque la scuola calcio delle Acli sarebbe anche pronta a riaffrontare un campionato comunque sicuramente più ostico, però ricco sicuramente di soddisfazioni. Certamente, quest'anno sicuramente è stato un anno e ci è servito di esperienza. Se continueremo sicuramente sarà, affronteremo i campionati con un piglio sicuramente diverso proprio grazie all'esperienza che abbiamo maturato. Cinofilia domenica Santa Croce di Magliano ospita come sempre il contato della Molise, manifestazione che da anni rappresenta un punto fermo dell'allevamento dei cani corsi e di altre razze canine meridionali. Domenica mattina alle 9, nei locali del centro comunitario, si svolgerà un convegno sul tema considerazioni storiche sul cano e corso, mentre nel pomeriggio dalle ore 16 prenderà il via la manifestazione cinofila presso il centro del dottor Flavio Bruno al quale si deve il recupero delle razze allevate. Campionato di Serie D prosegue il lavoro della nuova dirigenza dell'Isernia. Deve essere ancora nominato il nuovo presidente, ma intanto batti l'oro, sonda il mercato. Situazione decisamente critica invece a Boiano, dove le speranze di sopravvivenza sono davvero poche. Dopo la salvezza arrivata nell'ultima gara di campionato, l'Isernia si sta già muovendo per allestire un organico in grado di affrontare al meglio la prossima stagione. Tante le voci che circolano in questi giorni intorno alla società biancoceleste. Sibili e Battiloro avrebbero già trovato l'accordo con la società, il primo come direttore generale ed il secondo come responsabile dell'area tecnica. La prossima settimana dovrebbe essere fissata una conferenza stampa per ufficializzare i volti nuovi che andranno a ricoprire le cariche societari maggiori. Per quanto riguarda la squadra, dopo l'addio di mister Farina, tre sono i nomi che circolano per la nuova panchina, Luiso, Savino e Merolla, e sembrerebbe che proprio quest'ultimo, con 15 anni alle spalle tra C1 e C2, sarebbe il favorito. Dopo aver scelto il nuovo allenatore, si potrà parlare anche dei giocatori, comunica Battiloro. Ogni mister ha i suoi gusti, per questo motivo il responsabile dell'area tecnica smentisce le voci di una possibile riconferma di Fazio e Mingione, che hanno vestito la maglia biancoceleste la passata stagione, contribuendo alla salvezza. Dunque bisognerà aspettare l'arrivo in città del direttore Sibilia, previsto per la prossima settimana, per avere notizie concrete sul futuro dell'Isernia. In casa Boiano, invece, la situazione resta critica. Il Comune ha confermato l'impossibilità a risolvere la crisi societaria del club di Giancola, poiché Palazzo Colalino è in difficoltà economica. Il Moelise, nel prossimo campionato, dovrebbe contare su quattro formazioni, anche se sul futuro del Boiano resta un grande punto interrogativo. Al club, ai piedi del Matese, servirebbe un miracolo. Maglione, Mandorino, D'Angelo e Miani sono i primi tasselli del termoli di mister Sauro Trillini. Il direttore sportivo dei Filippis prosegue le trattative per le riconferme, come richiesto anche da Trillini, che vorrebbe mantenere l'ossatura della squadra dell'anno scorso. In Alto Molise ad Agnone, ad oggi il mercato è rinviato, come sempre il club Granata, a fine giugno ufficializzerà prima il nuovo organigramma societario, poi darà il via al lavoro del direttore sportivo Maurizio Sabelli. Per il calcio regionale, il titolo della Turris è nelle mani del primo cittadino Alberto Florio. Il sindaco sta già lavorando per coinvolgere nuovi imprenditori per non far sparire il calcio santacrocese. Noi lo abbiamo raggiunto telefonicamente. Alberto Florio, sindaco di Santa Croce di Magliano. Dunque, ad un mese dalla scadenza per le iscrizioni al prossimo torneo d'eccellenza, qual è la situazione che si vive a Santa Croce? Naturalmente parliamo della Turris. Sì, innanzitutto buongiorno. Volevo comunicare che una settimana fa la società uscente si è riunita ed ha rassegnato le proprie irrevocabili dimozioni. Quindi ciò ha comportato la consegna della documentazione inerente al campionato 2012-2013 che si è appena concluso, quindi di tutta la documentazione all'ufficio protocollo del Comune. E certamente non è una bella notizia questa perché vuol dire che la vecchia società si è dimessa. Quindi ora il mio compito è quello di avvisare la popolazione, avvisare gli sportivi soprattutto, che ci ritroviamo di nuovo come l'anno scorso con la Turris senza un timone. Quindi io comunque sono fiducioso, spero che nei prossimi giorni, visto che comunque quest'anno è capitato con largo anticipo questa comunicazione, che un nuovo gruppo delle persone volenterose possano prendere in mano la situazione e quindi iscriversi al campionato di eccellenza. Io da sindaco e da sportivo soprattutto non posso che augurarmi questo. Ecco, questo sicuramente quest'anno lo ricordiamo, è stato anche il cinquantenario della società gloriosa della Turris, c'è stata anche la vittoria della Coppa Italia, dunque naturalmente l'auspicio anche nostro, anche di tutti gli sportivi molisani è che si possa trovare una situazione come dice lei, questa volta c'è più tempo per organizzarsi un po'. Sì, questo ovviamente io farò di tutto per spingere tutte le persone interessate a mettersi insieme, a discutere, a dialogare e per trovare una soluzione. Certamente dal punto di vista personale io ho dato, la mia famiglia ha dato, quindi adesso penso che tocchi a qualcun altro, sinceramente. Ecco, un'ultima cosa, abbiamo seguito quest'anno le vicende sia della Turris nel campionato d'eccellenza che della Torre Magliano che ha disputato il campionato di prima categoria perdendo la finale play-off ma ha vinto la Molise Cup qualche giorno fa, dunque viene da pensare perché magari non si riesca a trovare un'idea comune, magari fondere le due società, puntare naturalmente anche su più gente di Santa Croce di Magliano questa è una domanda più da sportivo naturalmente perché poi abbiamo visto che anche la Torre Magliano aveva un grande seguito di pubblico. Sicuramente, questa è un'idea che era venuta l'anno scorso, quella di trovare un punto di unione, di fondere le due società perché ovviamente con i tempi che corrono diventa sempre più difficile mantenere e sostenere una squadra di calcio a certi livelli quindi il mio auspicio è che la futura dirigenza della Turris possa trovare un punto di incontro con la Torre di Magliano alla quale chiaramente vanno i miei complimenti da sportivo, da sindaco per l'ottimo campionato anche per il risultato ottenuto con la vittoria della Coppa e quindi di riuscire a formare un'unica società quindi più forte, più rappresentativa e anche più sostenibile dal punto di vista economico. Calcio giovanile l'arrivo sabato l'arrivo delle squadre mentre domenica è in campo per la prima gara della diciottesima edizione del Meeting dell'amicizia il torneo calcistico internazionale riservato alle categorie esordienti e giovanissimi organizzato dalla polisportiva Santissimi Piotro e Paolo di Termoli. La Kermess radunerà in riba all'Adriatico circa 180 persone tra giocatori e accompagnatori. Il centrocampista di Rotello Giorgio Marinucci Palermo è reduce dall'esperienza in Serie D con il Matera squadra che sarà guidata nella prossima stagione da Vincenzo Cosco. Marinucci Palermo ha calcato per molti anni i campi della Liga Pro. Noi lo abbiamo avvicinato. Giorgio Marinucci Palermo reduce dall'esperienza positiva con il Matera è stato già improntato da parte di un discorso proprio con il Matera per l'anno prossimo oppure adesso libero di decidere altre destinazioni? Sì, diciamo a prescindere il rapporto che c'è stato un ottimo rapporto tra noi diciamo ora la società innanzitutto sta partendo diciamo sta gettando le basi sul nuovo allenatore poi in base all'allenatore verrà costruita diciamo la squadra anche se loro stanno diciamo anche aspettando l'eventuale ripescaggio in C. Ecco diciamo che in questo calcio gira tutto intorno alla finanza all'economia al denaro anche perché proprio l'esperienza di Matera come di molte altre società è emblematica una società prima fallita era in Lega Pro poi quest'anno avete riguadagnato proprio la Lega Pro insomma quello che si cerca al di là dei risultati per una società di calcio è una certa stabilità finanziaria sì sì noi fortunatamente abbiamo al timone un presidente che ha delle basi solide ha alle spalle un'azienda sana e forte lui fa smaltimento rifiuti quindi diciamo un settore che attualmente va tantissimo che non risente della crisi e obiettivamente penso che abbia tutte le carte in regola per poter fare calcio a un determinato livello senti sei mollisano di rotello e amico proprio ad altissimi livelli con Vincenzo Cosco ha eseguito le sue le sue vicende al di là della retrocessione in mezzo a mille difficoltà è un allenatore sicuramente che si farà strada nella Lega Pro perché noi auguriamo anche la Serie B il mister è un mister importante per la categoria l'ha dimostrato anzi secondo me li va anche stretta merita altri altri palcoscenici io dico e nonostante tutte le problematiche oggettive che ha avuto quest'anno come stavi dicendo sul fatto sull'ambito societario lui è riuscito nonostante ciò al di là del risultato però a battersi bene poi purtroppo ripeto vengono a gala diciamo le problematiche che ci sono state però nonostante ciò in giro se ne parla benissimo sabato alle 18 al campo Ballarin di Cerce Maggiore si svolgerà la cerimonia di chiusura della stagione sportiva 2012-2013 della società Cerce Maggiore quest'anno due gli ospiti d'onore della società del presidente d'Uva esattamente Gigi De Canio allenatore di Serie A nell'ultima stagione sulla panchina del Genoa e Michele Zeoli cresciuto nella Lazio e che vanta più di 100 presenze in Serie B con le maglie del Catania Padova e Pescara originario proprio di Cerce Maggiore sabato scadono i termini per iscriversi al primo torneo Rapid Football 2 contro 2 che si svolgerà dal 27 giugno a Ferrazzano tre le categorie del torneo adulti e donne con squadre composte al massimo da 5 persone mentre per la categoria bambini massimo 6 componenti inizierà venerdì la 19esima edizione del torneo Madonna del Carmine a Riccia organizzato dalla Polisportiva Carmine e dall'Associazione Echinos ne abbiamo parlato con Donato Tronca Donato Tronca tra gli organizzatori del torneo Madonna del Carmine che quest'anno taglia il traguardo dei 19 anni è iniziato un po' con ritardo però ce l'avete fatta e questo è l'importante sì certamente sono contentissima di aver giunto alla fase finale di questa preparazione che è stata molto dura e ce la facciamo abbiamo dieci squadre iscritte quindi venerdì si parta alle 20.30 tutti al campo Boce di Riccia ed infatti venerdì come sempre comunque ci saranno due gare da disputare uno alle 20.30 e uno alle 22 quale sarà invece poi andando avanti anche il programma comunque della manifestazione si giocherà lunedì il martedì il giovedì il venerdì il sabato e la domenica stiamo fermi per permettere di fare altre manifestazioni nel nostro paese e fino alla Madonna del Carmine si giocherà quasi tutte le sere questa è una delle manifestazioni diciamo anche più attese a Riccia perché riesce ad avvicinare alla fine i ragazzi non solo di Riccia ma anche di fuori a questa manifestazione ricordiamo la Madonna del Carmine è patrona e regina di Riccia sì certo questa è una delle manifestazioni più attese a tutti gli sportivi riccesi ci tengono tantissimi di fatto sono 19 anni che stiamo alla ribalta aspettano come finisce il torneo già pensano alla formazione della squadra dell'anno dopo ci tengono tantissimi gli sportivi riccesi Riccia è combatta a venire sul campo tutte le sere e quindi è uno spettacolo garantito anche l'anno scorso è stata tantissima comunque la gente che è venuta a vedere tutte le fasi di questo torneo a testimonianza comunque che è un buon torneo anche di alto livello e questo sicuramente vi fa onore e vi inorgoglisce sì certo sono contentissime che accettano di giocare questo torneo tantissimi giocatori che minano in categorie superiori ci vengono contentissimi volentieri e vede che pure quando vanno via sono rimasti contenti di aver partecipato al torneo una marcia in più è anche il campo il poce di Riccia sì certamente il nostro campo è un gioiellino e quindi fa venire voglia di giocarci sopra denafro e five campo basso queste le tre molisane che hanno diritto ad iscriversi al prossimo campionato cadetto anche se il club del capoluogo sempre più vicino alla c1 regionale nel mondo seguitissimo del futsal molisano ci sono delle novità innanzitutto la presenza della esernia fresca di promozione in serie a due offre lustro al pianeta calcio a 5 i pentri stanno per ufficializzare il passaggio del valido portiere da lauro dalla five proprio ai neopromossi in a2 i campobassani invece cioè la five conferma le difficoltà finanziarie che costringeranno i rossoblu a perdere la cadetteria per iscriversi alla categoria immediatamente inferiore evenienza quest'ultima contemplata nel calcio a 5 anche in caso di non fallimento della società ci saranno novità sostanziali sia a livello tecnico che di organico a rivederci con stretta di mano e pacca sulla spalla Marco Sanginario autore di un ottimo lavoro lo scorso campionato con tanto di seconda salvezza consecutiva conseguita sul campo il nuovo allenatore scelto dai dirigenti Andrea Luciano con la collaborazione fattiva di Giuseppe Trivison dovrebbe essere Giovanni Plescia con la direzione che dovrebbe ricadere su Silvio Spidalieri in cantiere una squadra fatta da tutti i ragazzi con non più di due esperti presenti in rosa la società gradirebbe tenere due della vecchia rosa come chiocce per i ragazzi tra questi il capitano Antonio Cagliazzo ma anche Antonio Di Stefano non sarà semplice trattenere questi ultimi due giocatori alla corte del nuovo tecnico la rosa verrà dunque smantellata e ricostruita per coronare un progetto improntato a una linea essenzialmente verde e con ampio risalto da conferire al settore giovanile davvero improcrastinabile il ridimensionamento di cui verrà fatto oggetto la società campobassana è tutto per questa edizione del nostro TG Sport buon pomeriggio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti